Il Bitonto fa tre passi in chiave salvezza per il Barletta invece e notte fonda 2-0 a Rossiello in un derby, praticamente a senso unico deciso dai neroverdi con i gol nel secondo tempo, Distasi prima e Palazzo poi. Il Barletta con mister Salvatore Ciullo all'esordio in panchina concluderà la partita senza praticamente mai calciare verso la porta avversaria. Le formazioni, Bitonto con il 3-5-2, Murilo Gomez guida la difesa, Prinari e la mezzala di qualità, davanti il Bebi De Michele affianca Capitan Palazzo, Ciullo conferma la volontà di non sconvolgere l'assetto base annunciato alla vigilia, 3-5-2 per il Barletta guidato da Diaz e la Monica in avanti, difesa over con la Cassia Camilleri e Capone, si parte con 20 minuti di ritardo per delle problematiche legate alla consegna delle distinte alla squadra arbitrale. Dopo 9 minuti protesta il Barletta, impatto in area avversaria la Monica Gianfreda sull'incursione di Basanisi, l'arbitro Sassano lascia correre, poi sarà praticamente un monologo Bitonto, Palazzo va al tiro cross da sinistra e trova il petto di Camilleri, Obodo poi dalla bandierina pesca la testa di Murilo Gomez, pallone che scivola sul fondo a meno di un metro dai pali di Sapri. De Michele tenta poi il blitz da destra, sinistro chiuso in corner dal portiere bianco-rosso, dalla bandierina Camilleri di testa anticipa anche Sapri rischiando l'autogol e salvando sulla linea, da una punizione di Zugaro respinta dalla Cassia, poi il pallone arriva a Murilo Gomez, cross per Gianfreda che in rovesciata calcia alto. L'unico tentativo del Barletta nel primo tempo sarà questo sinistro ben largo d'inguscio dei 25 metri sugli sviluppi di una sponda di Diaz, al quarantesimo l'immagine più bella della prima frazione, Palazzo calcia al volo direttamente su un fallo laterale di Gianfreda, risposta da campione di Sapri, ultima emozione di un primo tempo che si chiude senza reti. Si riparte con il Bitonto in avanti, Muscatiello guida una ripartenza ignorando Palazzo e crossando per Zugaro, colpo di testa bloccato agilmente da Sapri. All'undicesimo del secondo tempo Santo Ruvo interviene dalla panchina dentro Stasi per Prenari e proprio Stasi sarà determinante. All'ora di gioco raccoglie una respinta della difesa sull'ennesimo corner del Bitonto, calcia con il destro da casa sua e grazie a una deviazione batte Sapri, 1-0 e prima rete in campionato per Stasi. Il Barletta prova a reagire con gom per Diaz, ma è ancora il Bitonto ad andare al tiro, Mollica si libera e calcia da sinistra, Sapri inchioda il pallone sulla linea. Dentro poi del Prete per Fornaro e Schelotto per Capone, Ciullo passa al 4-3-3, ma è proprio del Prete a commettere il fallo che chiude la partita, intervenendo così in aria su Zugaro. Dal dischetto ecco Palazzo che incrocia, Sapri non ci può arrivare, 2-0 e terza rete in campionato per il capitano del Bitonto. Con Caputo per Iangò il Barletta passa al 4-2-4 e grazie al numero 11 crea l'unica occasione realmente pericolosa della partita. Cross da sinistra, Ngom calce e trova la respinta di Murilo. Sul prosieguo dell'azione ancora Ngom si libera al tiro, ma calce in diagonale sul fondo. I sei minuti di recupero portano solo a queste proteste di Camilleri per una respinta dubbia di Gianfreda. Il finale non cambia, 2-0 per il Bitonto che sale a quota 21 punti a una sola incollatura da un Barletta in crisi nera, capace di ottenere solo 3 punti nelle ultime 11 partite e ora più uno sulla retrocessione diretta. Dopo la sosta del campionato si tornerà in campo il 18 febbraio, Barletta che ospiterà in casa il Matera, Bitonto che ripartirà dalla trasferta sul campo della Paganese.